io ho scoperto di avere la Tourette quando ho conosciuto la mia compagna perché mia compagna è una psicologa e un giorno mi ha fatto una domanda ma così a brucia pelo mi ha detto ma tu questi tic quant'è che ce l'hai? dico beh ho risposto a un paio di cose ma tu non hai tic tu hai la Tourette però ce l'hai motoria non ce l'hai verbale perché il problema è questo che la Tourette è famosa è quella delle parolacce ok ok la gente che ha già tutto bestemmia e perché è quella che fa che si conosce più perché quella più aggressiva invece c'è appunto tutto un mondo che riguarda la parte motoria e che sono tutti gli effetti dei tic soltanto che amore ma spero di non sbagliare che il tic viene da una da una cosa post-traumatica cioè sindrome di stress post-traumatica una cosa che ti è successa che ti ha cambiato qualcosa il tic è il tuo modo di rispondere a quella roba lì e quindi può si può guarire da un tic dalla Tourette no perché la Tourette è una cosa neurologica che è come uno starnuto perché tu quando viene da starnuti devi starnuti e a me quando mi viene da fare della roba varia